Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La conduttrice Serena Bortone ha trascorso una vacanza nella tenuta di Albano, durante il suo viaggio per promuovere il romanzo A te vicino così dolce. Albano ha sorpreso tutti, accompagnando personalmente la conduttrice in stazione al termine della sua visita. Serena Bortone ha voluto raccontare come si comporta il cantante nel privato, elogiandone la generosità e umanità. Dopo il ritorno dalla vacanza Cellino San Marco, Serena Bortone ha dedicato Albano una foto su Instagram, elogiandone la sua energia e generosità. La conduttrice ha descritto con gratitudine il gesto di Albano di accompagnarla alla stazione e aiutarla con le valigie, sottolineando la gentilezza spesso dimenticata e poco apprezzata. La vicenda ha suscitato grande interesse con Serena Bortone, che ha voluto condividere pubblicamente la sua esperienza nella tenuta di Albano e il gesto affettuoso del cantante. La dedica su Instagram ha ricevuto numerosi commenti positivi, elogiando la generosità e l'umanità di Albano. In conclusione, la vacanza di Serena Bortone nella tenuta di Albano ha evidenziato non solo la bellezza del luogo, ma anche la gentilezza e la generosità del cantante italiano. Un gesto che ha colpito la conduttrice e che ha suscitato ammirazione da parte del pubblico.